palazzappa modello al ice fodero in gomma semimorbida facilmente lavabile fuori autosvotanti e attacchi al ice sul retro questi vanno bene per i cinturoni apertura con doppio automatico caratteristica pala pieghevole in tre parti di facile impiego di utilizzo si apre si gira una ghiera metallica che va a stringere sulla parte terminale forzandola fa sì che si possa poi impugnare e utilizzare una parte è seghettata questo lato sinistro è seghettato e qua ha una seghettatura arrotondata per scavare meglio per sfalciare eventuale erba arbusti che sono presenti sul campo la parte centrale è leggermente concava fissata da tre bulloni se andiamo ad agire sulla la possiamo piegare e dal che viene la zappa famosa alla zappa proprio questa è la terminologia da utilizzare a due mani in questa maniera per riporla facciamo l'operazione inversa interamente metallico di eccezionale robustezza viene inserita nella sua custodia con facilità la possiamo riporre è consigliabile lavarla dopo l'uso